Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video workout, oggi allenamento total body, un circuito da 8 minuti che potete ripetere quante volte volete e oggi, differentemente dalle volte scorse, invece che iniziare a farlo e mettervi la musica di sottofondo voglio farlo live con voi, incitandoci a voce, io incito me stessa e allo stesso tempo incito voi a voce insomma senza musica perché vi voglio spiegare anche gli esercizi essendo un workout total body ho voluto studiare e inserire dei movimenti più complessi, più composti e secondo me super stimolanti quindi iniziamo, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa, 8 esercizi, 8 minuti Let's go! Primo esercizio con il quale iniziamo sono i prisoner squat più romanian deadlift quindi da così, prisoner squat, romanian deadlift e torno giù cambio la gamba con cui parto ok? iniziamo 45 secondi 3, 2, 1 ogni volta cambio gamba sono passati 25 secondi da qui stendo solo 3, 2, 1 altro esercizio bare più bare touch ok quindi quadrupedia tocco le ginocchia sprawl ok? via quadrupedia tocco le ginocchia salto dentro su comincia a sentire nelle gambe mi raccomando quando salto indietro salto in quadrupedia non perde la schiena 5 secondi 5 secondi ultimo ora inverso da ok crab tocco il ginocchio tocco il tallone ginocchio allungo il tallone giù l'equilibrio 10 secondi 10 secondi faccio schifo in questo ok ora uno che mi piace tanto commandos più shoulder taps quindi plank comando shoulder tap 3 e 4 e scendo ora di nuovo in comando con l'altro braccio uno due tre quattro comando uno due tre quattro comando vediamo madonna uno due tre quattro dai dieci secondi uno due tre quattro ok ora superman con butterfly superman odio profondo quindi mi spendo superman non appoggio le ginocchia chiudo e apporto i talloni verso i glutei idealmente senza mai appoggiare i piedi vai dieci secondi ok squat down ah questo è fighissimo raga allora si parte dai piedi squat scendo dietro spingo su porto avanti questo è molto per la mobilità cerco di scendere e appoggiarmi con il braccio opposto questo esercizio è fighissimo mi piace da morire lo sono diventato stamattina colazio ok oh raga ne mancano due è già finito figo lateral push up ok quindi parto da stretto plank faccio passo a destra piegamento torno indietro un passo a sinistra piegamento io l'armadio non ci sto cacchio 10 secondi 1 ok adesso abbiamo l'ultimo che ha un forward plank con feet touch quindi sempre nella processione di plank avanti avanti dietro dietro tocco i piedi avanti avanti dietro dietro caviglia caviglia cambio mano per andare avanti 10 secondi l'ultimo completo con la naso aspetta circuito total body di 8 minuti che adesso potete ripetere almeno 3 volte perché il primo giro è sempre un pochino di cercare di imparare capire gli esercizi i movimenti poi vedrete che facendoli diverranno molto più facili e immediati anche perché sono esercizi e movimenti funzionali quindi comunque movimenti che fanno parte del movimento e quindi una volta che si sono un attimo capite le dinamiche vengono molto istintive molto facili basta spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se eseguire il workout live veramente live con me vi piace di più di meno rispetto a quando metto la musica se preferite la musica se per voi è indifferente insomma datemi i vostri consigli datemi i vostri feedback perché mi sta piaciendo tantissimo fare questi video con voi e per voi e mi da tanta motivazione e voglia di fare quindi grazie spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale lasciato un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao